Dunque, in questo video volevo un attimo cercare di chiarire quella che è la figura degli unni, fra parentesi in sottofondo dovrebbe esserci un pezzo di campagna, più che altro perché non ho nient'altro da metterci. Il problema degli unni è che lasciano un po' perplessi, nel senso che studiando la storia inevitabilmente uno si rende conto che non è molto originale, nel senso che ci sono degli schemi e delle dinamiche che si ripetono, esempio pratico e classico, un impero cresce fino ad un certo punto, dopodiché generalmente quando diventa troppo grande per essere governato in modo efficace, inizia un declino e poi cade, lo vediamo nell'impero romano, lo vediamo in un sacco di casi. Gli unni non rispettano questi schemi, perché? Perché abbiamo questa popolazione che arriva da est, non si capisce da dove arrivi e in meno di cento anni fa dei disastri per poi scomparire completamente, quasi completamente almeno, altrettanto velocemente insomma. Il problema di base è che, visto che noi, almeno in Italia, ma questo vale probabilmente per tutti gli stati occidentali, noi studiamo una materia che si chiama storia, ma in realtà è una parte molto 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 limitata della storia. Noi studiamo praticamente soltanto l'Europa e poco altro, quel poco altro sono stati che in un modo o nell'altro hanno influenzato la nostra storia o che comunque sono entrati in contatto con noi, in modo piuttosto importante. Quindi il problema di base e anche l'errore di base che si fa nell'affrontare un attimo la vicenda degli uni è che si tenta di applicargli degli schemi occidentali che non sono applicabili, perché non bisogna mai dimenticarsi che questa popolazione, noi è vero che non sappiamo da dove arriva di preciso, ma sappiamo che non è europea. Lo studio della storia in Europa ci porta spesso a dare per scontato che in tutto il mondo, almeno nel periodo antico, perché poi ovviamente nel periodo contemporaneo gli esempi ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, però si arriva a pensare, a convincersi, anche senza esserne consapevoli, che in tutto il mondo più o meno le cose funzionano nello stesso modo. Cioè le società, i popoli si organizzano nello stesso modo, in ambito militare si comportano più o meno nello stesso modo e è una castroneria fondamentalmente. Per capire più correttamente un attimo la vicenda, bisognerebbe capire prima di tutto chi diavolo sono questi uni. Allora qui ci sono principalmente due teorie in realtà. Ovviamente vabbè gli scrittori e gli storici dell'epoca hanno dato le loro idee e sono abbastanza delle, diciamo, un po' delle stupidaggini, diciamo. Perché vabbè c'era quello che pensava che arrivavano da nord, quello che pensava che invece erano frutto degli incroci con le streghe e robe del genere. Ovviamente c'è magia, cose di questo tipo che da un punto di vista storico non hanno molta importanza. Però, diciamo, attualmente la teoria ufficiale, che però è ancora una teoria nel senso che noi non abbiamo delle prove schiaccianti e una visione onivoca sulla vicenda, è che siano una confederazione di popolazioni anche molto diverse l'uno dall'altro dal punto di vista linguistico e culturale, provenienti dalla steppa. Questo fondamentalmente è tutto quello che si può dire con certezza. Uno potrebbe chiedersi però perché popolazioni così diverse sono insieme, no? E questo per un occidentale probabilmente non ha molto senso effettivamente. Perché? Perché ancora una volta è uno schema, è una dinamica che non esiste in occidente. Esiste però fondamentalmente tutte le popolazioni della steppa. Lo stesso discorso si potrebbe fare anche con i mongoli in realtà. Premessa. Noi ovviamente sappiamo che gli uni non hanno lasciato resoconti scritti, quindi non sappiamo la loro versione dei fatti ovviamente. Quello che sappiamo è riportato da terzi, quindi sappiamo i resoconti romani o di altre popolazioni che sono entrati in contatto con loro. Il problema di questa necessità è che evidentemente possiamo tracciare il loro percorso soltanto quando entrano in contatto con queste popolazioni. E non è che all'epoca fossero poi così tante. Sicuramente come sanno tutti c'era una storiografia in Europa, c'era una storiografia con tutta probabilità nell'Asia minore, c'era una storiografia in India di cui però non saprei dirvi molto, c'era una storiografia particolarmente importante, particolarmente anche unica nel suo genere in Cina. Ora, considerando le posizioni geografiche, l'unico modo che noi abbiamo per avere un'idea di quella che è l'organizzazione di una popolazione della steppa è prendere la storiografia cinese ovviamente, perché una delle grandi caratteristiche in tutta la storia cinese fondamentalmente è il contatto e spesso scontro con quelli che venivano chiamati barbari, ma che a lato pratico erano popolazioni della steppa. Però, come ho detto, la teoria ufficiale non si spinge oltre, non identifica un'area geografica particolare o un popolo particolare che avrebbe dato origine agli uni. Esiste però invece un'altra teoria, piuttosto antiquata diciamo, perché mi sembra che sia del Settecento più o meno, che invece identifica negli Xiongnu settentrionali l'origine degli uni. Ora, gli Xiongnu erano una popolazione che viveva lungo il confine cinese, tra l'altro sono la prima confederazione di popolazioni della steppa di cui abbiamo prova, di cui abbiamo testimonianza, e questa tesi è avvalorata da un paio, diciamo, di particolari. Prima di tutto perché c'è una continuità di rituale, nel senso che sia nelle aree popolate dalle Xiongnu, sia nelle aree che poi hanno visto la presenza degli uni, sono stati ritrovati dei calderoni seppelliti lungo le rive dei fiumi, che potrebbero essere indice poi di un legame. C'è poi un collegamento di tipo storiografico perché uno stesso avvenimento di, diciamo, di guerra fra Xiongnu e i cinesi, in particolare il saccheggio dei Luoyang, viene raccontato sia da fonti cinesi, ovviamente, che da fonti Sogdiane. Ora, la Sogdiana era un regno che attualmente serve praticamente nel Luzbekistan. L'unica differenza, però, è che nei cinesi si parla di Xiongnu, nelle rettere Sogdiane si parla di Unni. Il problema qual è? Che c'è un lasso di tempo notevole fra la datazione delle due fonti, quindi, insomma, è possibile che altre interferenze, altre influenze poi abbiano portato a chiamare Unni quel popolo, almeno per quanto riguarda i Sogdiani. C'è poi, in teoria, almeno un'altra prova, che però in realtà non prova tanto che gli Unni fossero l'Ixiongnu, quanto che gli Unni avessero all'interno delle popolazioni che provenivano da quell'area, perché dopo l'arrivo degli Unni in Europa, si diffonde un particolare tipo di arco composito che era già in uso da secoli lungo il confine cinese. Questo ovviamente non significa che non venisse usato anche in altre parti. il punto però è che noi, quel poco che sappiamo della steppa, la sappiamo dai resoconti cinesi, per cui non sappiamo se poi più all'interno venissero utilizzati questo tipo di arco o meno. Però a fatto sta che è una prova che almeno una parte di quella confederazione tribale provenisse da quell'area. Il problema di questa teoria, a parte il fatto che non ha prove schiaccianti, il che già di per sé è un bel problema, è che prima di tutto non ci sono testimonianza di quella che è una delle pratiche di cui sappiamo di più degli Unni, cioè la deformazione craniale. Gli Shonnu, da quanto ne sappiamo, non la facevano. Ovvio, è possibile che l'abbiano introdotta in seguito, però sono sempre ipotesi prive di fondamento all'atto pratico. E poi la grande distanza temporale, perché noi dai resoconti cinesi sappiamo che la frammentazione fra Shonnu settentrionale e meridionali avviene circa nel 60 d.C. e gli Unni arrivano in Europa 300 anni dopo. In questi 300 anni, ok, che sono lontani, quindi un po' di tempo per camminare ci vuole, però possono essere successe talmente tante cose e non abbiamo alcun modo di andare a vedere quello che è successo in realtà, perché non abbiamo reso conti di quel periodo, perché proprio passano e vivono in aree che non tramandavano in modo scritto gli avvenimenti, quindi in teoria può essere successo di tutto. Quello che però non cambia la situazione, diciamo, è che è comunque interessante vedere la vicenda di questa popolazione degli Shonnu, perché un sacco di cose si ripetono poi nel caso degli Unni. Quindi in un certo senso troviamo qui, nei resoconti cinesi, quegli schemi, quelle dinamiche, che vengono poi ripetute in Europa, in alcuni casi. Come detto, uno dei problemi nel capire gli Unni è la loro organizzazione, cioè è una popolazione nomade che apparentemente ha all'interno una componente multiculturale, che non ha precedenti, quanto meno in Occidente. Quindi adesso cercherò di analizzare un attimo quella che è la storia degli Shonnu, per vedere, almeno quella che ho potuto studiare per gli esami fondamentalmente, per vedere questi elementi e come questi elementi ci aiutano a capire poi le vicende europee. Dunque, noi sappiamo che tale Mautun unifica, gli Shonnu li unisce più che altro, non è che li unifica, perché non erano stati separati, erano un gruppo di tribù che molto probabilmente avevano qualche legame culturale insieme, perché evidentemente si riconoscevano quale parte di una stessa stirpa in un certo senso, lui li unifica nel 209 a.C. e praticamente poi inizia subito il conflitto con i cinesi. Ora, a quel periodo, a quel punto della storia, la Cina era stata appena unificata, perché viene unificata dal primo imperatore dei Qin nel 221 a.C. Qin, dinastia, molto importante perché unifica la Cina, anche se però in realtà durò soltanto 15 anni, e la prima cosa che fanno è andarsi a prendere quello che è il deserto del Lordos. Il deserto del Lordos è un'area del nord della Cina, molto difficile anche da difendere perché è un'area non abitata, o quantomeno all'epoca era un'area poco abitata, per cui bisognava creare anche delle infrastrutture per propostare le provviste agli eserciti se dovevano stanziarsi in quell'area. Quindi non è difficile difendersi in quel punto. Comunque vengono costruite oltretutto anche delle muraglie, non sono ancora quella cinese, ecco, giusto per chiarire. Poi però i Qin cadono, ci sono grossi problemi interni, salgono gli Han. Gli Han sono una delle dinastie più grandi della storia cinese dal punto di vista, diciamo, culturale e anche se vogliamo storico, perché comunque riescono a sopravvivere per 400 anni, dal 206 a.C. al 220 d.C. c'è un breve interregno fra gli Han anteriore e gli Han posteriori, intorno al primo secolo d.C., ma insomma, al di là di quello, è un regno molto lungo. E il... diciamo, almeno la prima parte di questa dinastia è caratterizzata dallo scontro con gli Qin Nu. Allora, il primo imperatore degli Han era tale Gao Zhu, interessato al fatto che fosse un contadino, e ovviamente, vabbè, nel momento in cui si instaura una dinastia la situazione è abbastanza precaria, perché bisogna cercare di centralizzare il potere senza causare una nuova ribellione. Quindi, la situazione inizialmente era abbastanza difficoltosa per la Cina e in quel momento tentano di sconfiggere gli Qin Nu, ma non ci riescono e iniziano una politica di convivenza pacifica, diciamo. Cioè, l'idea è che attraverso matrimoni, attraverso scambi commerciali, attraverso pagamento dei tributi, cercano di mantenere una convivenza, appunto, pacifica con questa popolazione. Questo aspetto si ripete esattamente in Occidente, perché abbiamo quando arrivano gli Uni, a parte il fatto che inizialmente spesso erano anche mercenari, però molto spesso, soprattutto l'Impero Romano d'Oriente, paga per non essere attaccato. Nel momento in cui smette di pagare, a quel punto poi ci sono anche degli scontri. Quindi qui vediamo che c'è una linea di continuità. Però fondamentalmente, nonostante ci fosse questa politica, nonostante ci fosse un pagamento dei tributi, anche piuttosto oneroso, la realtà dei fatti è che i saccheggi continuano. Questo perché proprio a livello di cultura, di cultura e di economia di queste popolazioni, c'era la razza in territorio cinese. Con gli imperatori successivi riprendono le campagne militari. Il problema è che non concludono fondamentalmente nulla, perché? Perché anche se vogliamo l'aspetto geografico di quelle aree, non è assolutamente simile a quelle europee. Sono grandi distese, sono dei deserti, a lato pratico, l'area della steppa. Per cui dovevi marciare per giorni, c'erano un enorme sforzo di approvvigionamento di cibo. Quindi era molto 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 difficile e al lato pratico i risultati non si vedono. L'unico, il momento in cui la situazione gira, diciamo, è quando ci sono degli scontri interni, all'interno del punto degli Xiongnu, e allora a quel punto praticamente la frontiera diventa sicura quasi per i cinesi, perché hanno i loro problemi, non vengono a rompergli le scatole. Questo praticamente caratterizza un po' il periodo se vogliamo dalla metà degli Han anteriore, quindi intorno al 100 avanti Cristo fino a poi al periodo dell'usurpazione. Periodo durante il quale ovviamente ci sono guerre civili, la Cina ha altri problemi, quindi gli Xiongnu vengono lasciati un po' per conto loro. Questi riescono a riorganizzarsi e a riconquistare quelle che sono le loro terre. Il problema però è che nel momento in cui la nuova dinastia, o quantomeno la restaurazione della dinastia precedente, ottiene un potere saldo, ovviamente cerca di risistemare le frontiere e ricomincia un attacco contro gli Xiongnu. In questo caso nuovamente c'è una divisione interna, c'è proprio la divisione fra Xiongnu settentrionali e Xiongnu merindionali. riescono i cinesi a schiacciare quelli meridionali che vengono obbligati a diventare stanziali nelle terre cinesi, quindi vengono obbligati praticamente a popolare il deserto dell'Ordos, diventando però stanziali, quindi anche questo è una... francamente non vi saprei dire se nella vicenda degli Uni in Europa ci siano casi in cui abbiano cercato di... ovviamente non è che gli Uni da soli cercano di diventare stanziali, però se Romani o altre popolazioni abbiano cercato di obbligarle a diventare stanziali, però ovviamente rendere stanziale una popolazione e renderla stanziale nei propri territori, oltretutto dobbiamo tenere presente che l'Ordos non era un territorio fortemente popolato, quindi non è che vanno a togliere spazi cinesi è un modo particolarmente importante per ottenere controllo di una determinata popolazione. Comunque, questo ramo meridionale entra a far parte della Cina e li rimangono, infatti poi quando gli Han cadono c'è un periodo molto lungo di 300 anni in cui non c'è una dinastia unica, c'è una sua lotta interna in quel momento riacquistano potere se vogliamo, però la parte settentrionale no, la parte settentrionale viene sconfitta anche utilizzando ex alleati degli Xiongnu o anche loro nemici perché ovviamente poi queste popolazioni avevano dei legami di rivalità e volendo teoria anche amicizia se vogliamo a seconda dei casi ovviamente con altre popolazioni che vivevano nella steppa vengono praticamente completamente eliminati si dice che un gruppetto scappi a nord-ovest e a questo gruppetto poi viene ricollegato il l'origine degli uni ora vedendo anche i commenti dell'analisi delle frazioni degli uni dove c'era un commento particolarmente interessante di un ragazzo che ha fatto quello che avrebbe fatto praticamente chiunque cioè applicato uno schema occidentale agli uni ha cercato di spiegare in questo modo la caduta degli uni in occidente cioè lui fondamentalmente cosa diceva diceva che finché l'occidente i romani loro alleati per capirci non erano ben organizzati non erano in grado di opporsi agli uni ecco che allora gli uni andavano allo sbaraglio e facevano quello che volevano nel momento in cui riescono ad organizzarsi riescono anche ad avere dei generali abili ecco che gli uni cominciano ad essere sconfitti e poi verranno sconfitti definitivamente come detto questo qua è applicare uno schema occidentale a qualcosa che occidentale non è è quello l'errore di fondo lo schema in sé è piuttosto comune se guardiamo anche soltanto la vicenda di Germania e Russia durante la seconda guerra mondiale è successo proprio quello il problema però è che si sottovaluta quella che è l'organizzazione di una popolazione di tipo confederazione tribale ora se noi ripensiamo come sono formati gli uni c'è questo stato questo questo uomo che è riuscito ad unificarli com'è che li è unificati ovviamente nel momento in cui tu unifichi una popolazione tribale non puoi farlo con la forza quantomeno non puoi farlo in modo prevalentemente militare perché nel momento in cui le tribù combattono fra di loro anche se riesci a unificarle prima di tutto avrai problemi di ordine pubblico e in secondo luogo avrai pochi uomini da utilizzare poi per invadere la Cina e anche razziare e comunque arricchirti no? quindi prima di tutto deve esserci un'unificazione di tipo pacifico nel limite del possibile attraverso o matrimoni o legami di debito d'onore se vogliamo nel senso che magari un capo tribale aveva dei debiti nei confronti degli altri a livello di non so gli ha salvato la vita o robe del genere se leggete se mi andate guardare la situazione di Genji Scan vedete che succedono robe di questo tipo poi ci sono certamente degli equilibri di forza perché se una tribù cresce abbastanza da poter ribaltare il potere lo fa generalmente e quindi c'è sempre la necessità di un potere estremamente forte ed estremamente centrale questo potere centrale è garantito nel momento in cui c'è un leader se vogliamo potrebbe anche essere carismatico che comunque riesce a mantenere questo potere in Europa è stato attiva prima di Attila certo c'erano gli uni comunque combinavano parecchie cose ma la loro grandezza è arrivata sotto il regno di Attila e il problema però qual è? è lo stesso problema che avranno i mongoli è lo stesso problema che hanno gli Shionnu in sostanza nel momento in cui muore il leader fa tutto catafascio perché? perché anche il fatto anche lo stesso sistema di successione è un problema perché nel caso di Li Shionnu era un po' particolare perché se il figlio del re diciamo l'erede non era non era abbastanza grande non c'era un sistema di reggenti ma il il regno passava al fratello del re poteva passare anche in livello di orizzontale piuttosto che andare soltanto di una generazione all'altra questo è un problema molto grosso perché poi nel momento in cui il figlio del re diventa grande non è che gli va tanto bene che il suo zio sta governando il suo posto per cui molto probabilmente è portato a generare una rivolta se non lo eliminano prima perché può succedere anche quello stesso discorso c'erano i mongoli perché se vi ricordate se vi siete informati diciamo il sistema di successione dei mongoli era che nel momento in cui muore il Khan fra gli eredi fra i successori diciamo di Gengis Khan a livello di sangue proprio tutti devono essere d'accordo nel scegliere uno ovvio che questo può funzionare finché sono pochi ma quando si passa a un numero di generazioni che li porta ad essere parecchi ci sono grossi problemi è per questo che poi l'impero di Gengis Khan si divide con gli uni la situazione è un pochino diversa nel senso che c'è un successore alla morte di Attila che è il figlio maggiore Ella che il problema è che c'erano già delle fazioni interne nel conto di probabilità che non scoppiavano perché o bene o male il potere di Attila riusciva a bloccarle oltretutto questo questo re diciamo aveva anche dei fratelli quindi c'erano ci potevano essere delle fazioni che sopportavano l'uno piuttosto che l'altro nonostante poi lui fosse il maggiore e quindi o questo re aveva il potere di affrontare i suoi nemici riuscire a sconfiggere le faide interne riuscire a riguadagnare il potere nelle sue mani oppure inevitabilmente ci sarebbe stato un collasso nel senso che nel momento in cui un'orda di questo tipo una confederazione di questo tipo si separa ovviamente il potere non è più sufficiente per resistere alla controffensiva che era stata lanciata dagli alleati romani e dai romani e da altre popolazioni che non avevano proprio simpatia per gli uni ovviamente non si possono proprio basimare questo per dire che nonostante noi possano anche sembrare qualcosa di unico in realtà gli uni sono comportati da perfette confederazioni tribali è vero non sappiamo con precisione come si sono generati però è facile immaginare che ci fosse un gruppo di tribù originario che si è espanso o conquistando o rendendo tributari determinati stati o anche inserendosi all'interno lotti di potere all'interno di altre tribù quindi magari appoggiando un erede piuttosto che l'altro all'interno di una di una tribù quelle aree magari aiutano a livello militare a quel punto poi c'è una sorta di debito che può essere pagato anche appoggiando nelle scorerie nelle razzie di questa popolazione oltretutto torniamo presente che se è vero che c'erano differenti ceppi culturali quantomeno quantomeno si pensa all'interno della steppa da punto di vista militare si assomigliavano tutti cioè erano sempre comunque cavalieri generalmente leggeri quindi non è che usassero particolarmente armature e robe del genere quindi era anche facile spostarsi era anche facile cominciare a avere azioni militari in comune e quello che è successo quello che probabilmente è unico non è unico è la prima volta quantomeno nella storia che succede è che raggiunge dimensioni tali che nel momento in cui arriva in Europa e nel momento in cui c'è un leader solido con un potere forte probabilmente anche carismatico nei confronti dei suoi uomini ecco che è una forza in reale stabile per l'occidente certamente l'occidente era in crisi però al punto di vista storico casi precedenti diciamo generalmente quando una confederazione tribale è al pieno delle forze non viene sconfitta dal punto di vista militare non ce la fanno i cinesi non ce la fa l'occidente ce la fanno nel momento in cui le lotte interne la dividono a quel punto è debole a quel punto viene sconfitta per questo credo che non sia corretto dire che la sconfitta degli uni arriva fermando i romani nel senso che i romani e alleati e altre popolazioni sfruttano un momento di debolezza se non ci fosse stato questo momento di debolezza se Attila avessi vissuto di più se il suo erede fosse stato più abile probabilmente la situazione sarebbe stata diversa detto questo credo di aver concluso tenete presente che questo video è fatto in buona parte da opinioni personali basate su fatti quindi i fatti sono quelli se ve li andate a cercare dovete trovarli a meno che non ho detto qualche stupidaggine clamorosa però le opinioni sono mie quindi ho cercato di argomentarle e di dimostrarne la validità però ovviamente unito poi è libero di farsi le proprie opinioni credo che farò altri video di questo tipo non ho idea quando non ho idea su che argomento e quindi direi al prossimo video ciao